L'Accademia delle Belle Arti dell'Aquila si prepara al ritorno in presenza dal primo febbraio con tante novità. Innanzitutto il teatro dell'Accademia sarà messo a disposizione della cittadinanza, ma non è l'unica attività, perché ci si appresta anche ad attrezzare il nuovo padiglione. L'obiettivo primario è aumentare sempre più il numero di iscritti. Cercheremo di rendere utilizzabile e fruibile dal territorio il nostro teatro, che è uno spazio importante, che chiederemo l'utilizzo del pubblico servizio e quindi poi cercheremo di fare accordi con vari enti e istituzioni territoriali. La seconda cosa che stiamo rendendo operativo, grazie anche alla collaborazione molto fattiva della provincia, è il nuovo padiglione che è stato creato negli ultimi anni e che adesso lo dobbiamo attrezzare rapidamente e velocemente con i laboratori. La terza cosa, nel Consiglio di amministrazione che è convocato per martedì prossimo, nomineremo il RUP per iniziare tutto l'Italia procedurale, per spendere quel milioni e due che ci è stato girato dallo Stato per l'efficientamento energetico di tutto il plesso. Il neopresidente Rinaldo Tordera e le neodirettrici Maria D'Alesio hanno illustrato anche i numeri. Le iscrizioni sono aumentate portando il numero degli iscritti a 350 con 130 matricole. Fotografia, fumetto e grafica d'arte, i corsi più gettonati. Per quanto riguarda le lezioni, ci saranno lezioni live che saranno appuntamenti veri e propri di approfondimento aperti alla città. Giornate di studi, ma anche un'attenzione particolare agli studenti con borse di studio, rafforzando i rapporti con enti e istituzioni attraverso convenzioni. Il 27 gennaio intanto, in occasione della giornata della memoria, ci sarà un seminario tenuto dal restauratore Matteo Rossidoria che illustrerà il restauro del memoriale del blocco 21 del campo di Auschwitz-Birkenau. Siamo orgogliosi che c'è un numero di iscrizioni, è superiore a quello dell'anno scorso. Questo premia una serie di attività che sono state svolte negli anni. In modo particolare, io ci tengo particolarmente a mettere gli studenti al centro dell'attività dell'Accademia. Abbiamo, per esempio, istituito delle borse di studio proprie, cioè interna all'Accademia, per venire incontro alle difficoltà che tutti conosciamo. E anche aumenteremo il numero dei contratti di collaborazione con gli studenti e più in generale tenteremo di avere dei rapporti continuativi di collaborazione per i post-diplomati con le realtà territoriali della regione Abruzzo, con tirocini, seggio.